Ok ragazzi, come tutti sappiamo, dopo aver combattuto caparbiamente per settimane o addirittura per mesi, le forze ucraine sono riuscite a conquistare Eurozaine. Quindi, che cosa potrebbe mai andare storto? Innanzitutto, se sei un soldato russo, potresti trovarti a ritirarti dalla città senza avere un piano. E detto fra di noi, non avere un piano significa non avere alcun genere di supporto. Non c'è artiglieria che ti copre le spalle, non ci sono veicoli terrestri che vengono a prenderti, a trasportarti in un luogo sicuro, e tu insieme ai tuoi compagni devi ritirarti alla meno peggio. E alla meno peggio non significa procedere su una strada in fila indiana in pieno giorno. Perché sapete che cosa succede quando ci sono decine e decine, se non centinaia di soldati, che si stanno spostando su una traiettoria prevedibile in pieno giorno senza alcun tipo di protezione? Succede che diventano il bersaglio perfetto per l'artiglieria. E a proposito di bersagli, non è che i russi facciano proprio una bellissima figura. Sembra che come hobby abbiano quello di lanciare missili che valgono milioni o addirittura decini di milioni di dollari equivalenti per colpire tavole calde o supermercati. Qui potete vederne uno che è stato centrato in piena notte ad Odessa. E di questo supermercato non è rimasto molto. Se a qualcuno può interessare, prima il supermercato era così, mentre dopo il trattamento russo è diventato così. Ed è anche una fortuna che sia stato colpito il supermercato, perché quel supermercato è esattamente al centro di un quartiere residenziale. Tutti intorno ci sono soltanto palazzi. Si è mancata l'ennesima strage letteralmente per un soffio. I russi riescono a colpire dei bersagli civili solo ed esclusivamente perché agiscono in maniera completamente illogica. Teoricamente strategia militare vorrebbe che tu colpissi bersagli militari. O quantomeno dual use, come per esempio i ponti che vengono usati sia dai civili sia dai militari per spostare cibo, munizioni, carburante e naturalmente anche mezzi uomini. I russi invece hanno iniziato a lanciare una buona parte dei loro missili contro città tendenzialmente sprotette, perché normalmente non dovresti colpire i bersagli civili. Un missile costa letteralmente milionate di dollari equivalenti. E in condizioni normali non lo sprecheresti in questo modo. A voler tacere naturalmente il fatto che questa roba qui, dal mio punto di vista, è un crimine di guerra. Un errore ci può scappare due. Ma qui puntualmente i russi bersagliano quartieri residenziali. Quindi chiaramente qualcosa non va. In patria un certo numero di russi, magari anche pompato dal fatto che se ti azzardi a contrastare il regime o semplicemente a dire non mi va bene come stai conducendo l'operazione militare speciale e finisci in carcere, molti russi non se ne rendono conto e appoggiano il governo, spesso e volentieri anche in maniera alquanto bizzarra e goffa. Guardate per esempio questo cartellone. Sulla sinistra possiamo leggere centro di addestramento numero 266. Nonostante il nome altisonante, il centro d'addestramento è l'equivalente della nostra scuola guida, dove si possono ottenere patenti di ogni tipo. Poi c'è il nastro di San Giorgio, da sempre omaggio ai militari russi. E infine si vede un mappamondo dove il proprietario di questo centro di addestramento ha evidenziato quelli che secondo lui dovrebbero essere i territori russi. In pratica, come si può facilmente notare, ha fuso i possedimenti dell'epoca imperiale, tant'è che fra i territori russi risulta ancora l'Alaska, con le conquiste dell'Unione Sovietica, tant'è che fra i territori russi risultano anche tutte le nazioni che facevano parte del patto di Varsavia e tanto russe non erano. E oltretutto, come mi è stato fatto notare da un'assistita albanese che stava sbirciando sul computer stamattina, nei territori russi rientra anche la Grecia, l'Albania e la Jugoslavia tutta, che russe proprio non lo sono mai state, non sono mai state neanche nel patto di Varsavia, per quanto ci ricordiamo. La Grecia, ovviamente, è sempre stata nella Nato, tra le altre cose. Questo accade perché da almeno dieci anni a questa parte, tutti i mass media, su input del governo, spingono tantissimo sul concetto di nazionalismo russo e ogni due per tre ripropongono contenuti collegati alla grande guerra patriottica. Qui, per esempio, vedete una strada di San Pietroburgo dove stanno girando un film a tema. Da una parte c'è la strada con il cartello che richiama l'arruolamento bipista dei soldati e sul retro c'è un cartello altrettanto moderno che richiama l'arruolamento i patrioti russi. Sono passati 80 anni, ma per la stragrande maggioranza dei russi è ancora come se fosse ieri, a parti invertite, ma in pochi se ne accorgono. Perché in Russia, da almeno dieci anni a questa parte, oltre a vivere nel periodo fantastico della guerra patriottica, non esistono persone che hanno idee diverse rispetto a quelle del governo. Esistono soltanto agenti stranieri al servizio delle forze occidentali, brutte, cattive, decisamente brutte. In questo modo sono state allontanate associazioni pacifiste, ma anche organizzazioni ambientalistiche, come il WWF e Greenpeace. La propaganda è insomma martella, 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 condiziona, 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 ma per fortuna, come tutti gli strumenti umani, non è perfetto. Alcuni russi, purtroppo troppo pochi ogni tanto, aprono gli occhi. Vediamo infatti che cosa hanno imparato alcuni volontari che sono andati a fare le vacanze per aiutare altra gente in Nuovo Rossia. Il fatto è che sono filtrate molte informazioni da parte della gente che vive lì. E le fanno filtrare loro. E queste informazioni le abbiamo avute di prima mano, perché noi siamo andati in quei posti. devo dire che nelle regioni di Zaporozze e di Kherson, ho avuto l'impressione che il 70% degli abitanti fosse contrario al mondo russo. Gli abitanti sono contro di noi, almeno al 70%, neanche al 50%. Tra l'altro, nella regione di Zaporozze, mi è anche capitato di riuscire a fare rifornimento solo alla terza stazione di servizio. detto fra di noi, è un bel problema, perché in quelle aree geografiche non c'è una stazione di servizio ogni chilometro come le abbiamo in molte regioni d'Italia. Tecnicamente in quelle aree hai una stazione di servizio ogni 30-50 chilometri di media. e se non riesci a trovarne una, va da sé che sei nella melma fino al collo. Nelle prime due stazioni di servizio i proprietari sono usciti e in linguaggio strettamente ucraino, mi hanno mandato a fare la benzina da Putin. Capite che cosa significa tutto questo? Di cosa stiamo parlando? Vladi, lo conosci un certo Stefan? Mi ha detto di fare la benzina da te. Devo fidarmi? Lo prendo in parola? E così fanno tutte le persone di cui ha avuto notizia o che mi hanno dato notizie. Già, che cosa strana. Vai a bombardare prima le loro terre, rendi la loro vita un inferno, arrivano i militari, si scelgono uno dei loro per amministrare, amministreranno sicuramente male e tu arrivi lì bello, candido e sportivo pensando di essere accolto come un eroe o quantomeno come una persona simpatica. La realtà non funziona così. E se devo essere sincero, io con questi due russi non riesco neanche a prendermela perché questo è il risultato che ci si aspetta dopo che una persona o due persone, come in questo caso, sono sottoposte a un bombardamento mediatico e propagandistico per dieci anni. E di recente ho incontrato anche alcune nonne e alcuni nonni. Io sono ucraino fin dal profondo delle mie ossa e lo sarò sempre. E non ho alcun bisogno di questo mondo russo. Io sarò sempre a favore dell'Ucraina. Vedi, devi capire che non c'è niente che tu possa fare. Il mondo ha condividuto che c'è in головà e che vuole vivere. La gente poi è divisa e tiene per sé il modo in cui vuole vivere. Sì, anche perché se te lo dovesse dire alla luce del sole vicino a un soldato russo o a un ufficiale russo finisci in carcere minimo minimo per dieci anni. non mi stupisca che tenga per sé certe cose. Anzi, sei stato bravo tu a riuscire a fartele dire. Inoltre ci sono un mucchio di traditori ma davvero tanti traditori. Uè, ragazzo, guarda che per essere traditore devi prima essere affiliato con una squadra. Si tradiscono gli amici e gli alleati, non certo i nemici. E gli invasori russi, quegli uomini tutt'altro che verdi e divertenti che sono venuti lì a bombardare le città e a massacrare i tuoi amici e parenti portando sostanzialmente la guerra in casa sono considerati a tutti gli effetti nemici. Sì, lo so, tu non l'avresti mai detto ma il mondo è strano. E inoltre la popolazione locale dovrebbe essere temuta tanto quanto l'esercito ucraino. Già, se l'AMPI non fosse impegnata a sostenere Putin H24 potrebbe anche arrivare ad affermare che nelle zone occupate dell'Ucraina c'è una cosa chiamata resistenza. E anche i soldati e tutte le persone che si trovano lì Ora, se noi dobbiamo andare lì ci andiamo calcolando il tempo per farlo. Noi cerchiamo di arrivare tassativamente di mattina presto, prestissimo così possiamo passare in tutti i posti in cui possiamo dobbiamo passare e di farlo durante il giorno perché c'è anche un coprifuoco ed effettivamente di notte è realmente pericoloso. Ed è davvero pericoloso restare lì la notte potresti non svegliarti la mattina successiva. noi cerchiamo sempre di finire tutto il lavoro entro le ore diurne e di rientrare tassativamente in tempo nel territorio della grande madrepatria. Ora, sinceramente, non so quale sia la loro base di partenza ma difficilmente puoi arrivare a Kherson fare le tue cose e tornare indietro in una giornata perché la distanza è davvero notevole e soprattutto non ci sono superstrade praticabili per quanto mi risulta. c'è infatti una guerra in corso e tanti ma tanti posti di blocco. Però magari limitano questi due le loro scorribande fra virgolette a qualche città vicino al confine si può anche fare. Il giornalista ci riflette un po' su non posso mostrarvi le immagini perché sennò l'algoritmo si imbippa ma letteralmente ci sono secondi e secondi di vuoto prima che lui formuli questa domanda e poi alla fine si decide a chiedere se effettivamente la situazione sia così diversa da quanto viene raccontato dai mass media. Qual è la vostra opinione quando vi aspettate la pace? Per prima cosa si dovrebbe capire che cosa si intende per pace. Sono passati 20 25 anni da quando abbiamo iniziato a venire in Ucraina. Vivevamo a 100 chilometri dal confine e andavamo a Kharkiv per fare un giro. Ci andavamo per il fine settimana qui stavamo torte facevamo cose vedevamo amici ora non sarà più così. нам снова стать братскими народами? Это невозможно. Никак. Никак. Quando riusciremo a tornare nazioni gemelle? Ormai mai più. Insomma questo è un quadro realistico della situazione. Ci sono dei cittadini russi che credono alla propaganda, si recano nelle zone occupate con tutte le migliori intenzioni e poi scoprono che la realtà è profondamente diversa. Questa coppia peraltro ha anche il coraggio di parlare di quello che ha visto, perché in Russia rischi anche soltanto esprimere la tua opinione. Dimitri Skurikin per esempio è un commerciante che è stato recentemente ieri o l'altro ieri per intenderci condannato a un anno cartello appeso fuori dal suo negozio che recitava qualcosa del tipo Ucraina perdonateci ed è stato condannato per aver leso l'onore dell'esercito rosso. Vi mostro le immagini dell'arringa finale dell'imputato non dell'avvocato perché l'avvocato non so se d'ufficio o di fiducia se ne resta buonino buonetto al banco scrivendo le sue cose mentre c'è il suo assistito che declama le ragioni per cui ha operato in quel modo il tutto nell'indifferenza assoluta del giudice ma vediamo la clip anzi non la possiamo vedere perché pare che questa clip sia coperta da copyright vi mostro semplicemente qualche immagine con i sottotitoli in che modo la pazzia che si sta verificando in Ucraina qualcosa che spartire con l'idea di difendere i nostri interessi dove erano le bombe che cadevano sulle nostre città prima dell'inizio dell'operazione militare speciale cose così non accadevano fin dal 1944 prima dell'inizio dell'operazione militare speciale il blocco aggressivo della Nato si trovava a oltre 100 km di distanza dalla nostra capitale settentrionale ora è letteralmente sulla baia a due passi da noi prima nell'inizio dell'operazione militare speciale c'erano centinaia di centinaia di migliaia di nostri compatrioti che se ne andavano all'estero invece di lavorare qui per il proprio benessere per il benessere della nostra madrepatria gli obiettivi dell'operazione militare speciale giustificano le perdite in vite umane tanto dei nostri compatrioti quanto dei cittadini ucraini in base ai dati delle Nazioni Unite 500 bambini sono stati uccisi mentre parliamo se questi sono i risultati e gli obiettivi dell'operazione militare speciale allora scusatemi ci deve essere un qualche genere di tradimento da parte della gente che l'ha organizzata e se questo non è il caso se questi non sono gli obiettivi dell'operazione militare speciale vostro onore allora è l'operazione militare speciale a discreditare la nostra madrepatria e il nostro esercito io naturalmente non ho interrotto quest'uomo per rispetto quest'uomo ha avuto la dignità di beccarsi un anno e mezzo di reclusione perché ha esposto un cartello che diceva scusate ucraini adesso con una ringa del genere non mi stupirei se gli arrivasse un secondo processo e una condanna ben più pesante perché in Russia capita anche questo e io ho tutto il rispetto per queste persone che poi in realtà sono veri e propri martiri perché sanno perfettamente che verranno condannati soltanto per aver espresso la propria opinione ma vorrei sapere che cosa ne pensano i vari professori Alessandro Orsini i suoi orsetti del cuore i lilliputinani nah i lilliputinani sono oltre ogni salvezza visto che vanno in giro a parlare di poteri satanici ucraini e i figli di Putin in generale voi non vi sentite a disagio nel difendere una nazione dove succedono queste cose il professore Orsini è un docente universitario non di giurisprudenza o scienze politiche come la chiamano oggi ma è pur sempre un docente un uomo di cultura non si sente a disagio nel difendere una Russia che mette in carcere una persona solo perché ha detto che la guerra è brutta e cattiva e che sostanzialmente condivide lo stesso pensiero Orsiniano e sinceramente vorrei capirlo i figli di Putin tacciono su queste situazioni perché sono convinti che sia giusto mandare la persona in carcere quando esprime un'opinione diversa dal governo hanno paura non lo so magari Putin dice se non fate tutto questo io vi lancio le testate nucleari e quindi i filoputiniani si nascondono immediatamente sotto un tavolo è paura che vi spinge a tacere su queste situazioni o magari è la speranza di pagare qualche centesimo in meno il gas della cucina davvero lo vorrei sapere fatemelo sapere scrivetemelo qui sotto come al solito oh e naturalmente anche se non siete figli di Putin scrivete qualcosa qui sotto lo stesso come sempre peraltro se questi video vi piacciono vi ricordo calando di tono ma di brutto 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 di iscrivervi al canale di attivare la campanella di condividere il messaggio con le persone che sono interessate a riceverlo che magari riescono anche a riflettere un po' e naturalmente lasciare il mi piace perché video come questi non finiscano nel dimenticatoio in tempo zero e come ripeto sempre 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 per voi si tratta di pochi click ma ricordatevi che sono dei click importanti perché tutto ciò che può tenere alta l'attenzione su questi problemi che riguardano la nostra democrazia ai nostri diritti devono essere costantemente ricordati alla gente perché i mass media dominanti per così dire non lo fanno mai gli orsini non lo fanno mai i lilin ma quelli sono troppo impegnati a dare la caccia ai satanisti atlantisti sono proprio al di fuori di ogni cosa ma pesano quasi il 30% della popolazione secondo alcuni sondaggi secondo alcuni sondaggi Putin è adorato tra il 22 e il 29% degli italiani una persona che sbatte in carcere o meglio fa sbattere in carcere perché lui certamente non si abbassa altre persone soltanto perché esprimono un'opinione contraria alla sua quindi se potete fate girare un po' il video rifletteteci parlate di queste cose qui se no un domani potreste ritrovarvi in casa probabilmente non Putin ma qualcuno come lui e non sarà gradevole sì lo so molti speravano in una battuta divertente ma oggi scusatemi proprio non ci riesco come sempre grazie di tutto per tutto e a presto grazie a tutti